Buonasera a tutti, sono le 22.26 e ci prepariamo ad una nuova night session su Bitcoin con Evoluta, un metodo statistico matematico non discrezionale per fare trading su Bitcoin. Che cosa vi ho raccontato che mi aspettavo sarebbe successo? Dopo questo movimento, un altro movimento rialzo con baffo per andare a chiudere, che cosa? Un t-1 inverso. E che cosa è successo? Eccoci qua. Perfetto. Siamo saliti. Oltretutto, finalmente, stiamo riuscendo a rimanere sopra la media mobile a 50 periodi in rosso. Siamo andati sopra la Kumo. La Kumo è qui. Noi siamo qui. Quindi tutto ciò che mi aspettavo si è verificato nei tempi giusti. Ovvero, allarghiamo ancora un po' di più il grafico. Da qui, a questo massimo, 17 barre, non eravamo arrivati a 24. Chi ha comprato long o aspettato una discesa prima di comprare un ritorno verso la media mobile in rosso, e che cosa ho fatto? Ho guadagnato. Perché entro le 44 barre, siamo arrivati a 39, abbiamo fatto un massimo assoluto. È vero, hanno fatto una bella fintina qui. Giusto per chiudere, probabilmente, il primo t-3 giornaliero a 24 barre precise, durata minima fattibile. E poi da qui può essere serenamente partito con tutte le condizioni il secondo t-3, il secondo ciclo giornaliero. Adesso è importante che Bitcoin si dia una mossa. Perché? Perché, come vi ho detto, dato che se rimettiamo una scala decente, andiamo a vedere quanto male sta partendo questo nuovo annuale, perché ormai il raccordo lo escludiamo. Giusto? Siamo arrivati a 91 giorni. 91 giorni fanno quasi un semestrale il raccordo, ormai esclusa come opzione. Vi faccio notare come è partito il precedente annuale. Fatto così. Boom, boom, boom. E qui, come è partito l'attuale, certamente non particolarmente bene, per ora sembra un ciclo neutro, anzi è un ciclo neutro, si rischia di andare qui sotto. Nel caso si andasse sotto i 17.605 dollari, l'annuale si vincola a ribasso. Nel caso l'annuale inverso abbia chiuso con tutte le condizioni qui, saranno, come diceva il buon Lino Banfi, volatili per diabetici, ovvero cavoli amari. D'accordo. Volevo raccontarvi di nuovo di questa cosa, perché continuo a vedere delle persone che non hanno ben compreso in che situazione ci troviamo. Lo ripeto soprattutto per i nuovi. Da qui, quando il 16, tra l'altro, mi accorgevo che poterà partire un annuale inverso, da qui è partito un pluriennale di inverso che spinge verso il basso e rimbalza, spinge verso il basso e rimbalza, e così via. che può essere molto deleterio per il prezzo di Bitcoin per i prossimi anni, non mesi, non giorni, anni. Perché un pluriennale di inverso dura, se parliamo di un T più 7 inverso, così si chiama in gergo, T più 7 inverso dura due volte tanto un T più 6 inverso, che dura due volte tanto un annuale inverso. quindi annuale, biennale, un T più 7 inverso dura o tre anni, o quattro, o cinque. Non sto dicendo che si scende e basta. Sto dicendo che si scende a ondate, a cicli, e che se non si torna rapidamente sopra determinati massimi, si continua a scendere. altrimenti si vincolerebbe a ribasso, rialzo, che cosa? L'inverso. Quindi la partita, in questo momento, per rendere ancora più semplici le cose, è tra questo massimo, che attenzione, potrebbe non ancora essere partito un nuovo annuale inverso. Non abbiamo ancora tutte le caratteristiche. Quindi, tra questo massimo a 25.205 dollari, e questo minimo a 17.605 dollari. In questo momento, non siamo tanto distanti da questi 17. È vero che mi aspetto una risalita, tutto quello che volete. Qui avremo, come di consueto, la media mobile a fare da Maginovero, da resistenza. Poi, in questo momento, qui, la Kumo fa sorridere, è traforabilissima. Però, a meno che non si torni qui sopra, diventa dura, diventa davvero dura, perché qui sopra, ci sarebbe ancora la possibilità, se da qui poi ci saranno determinate conferme, di far partire un mensile che, se si tornasse qui prima delle 24 barre, ovviamente, lo vincolerebbe tutto a spingere i prezzi verso l'alto. Ma se non ci si arriva, e se andiamo oltretutto oltre la durata delle 44 barre, siamo a 34 in questo momento, cioè, se la violazione avviene, 43 barre, voglio dire, avviene dal 27, 28 in avanti, ci può andare bene. Se avviene prima, potrebbe essere strano, brutto, orrendo, tutto quello che volete, ancora una chiusura di mensile inverso. Se avviene questa salita sopra questo massimo, entro il 26 di settembre. Vedete, quando ribadisco che l'evoluta è un metodo statistico-matematico, non lo dico a caso, non è una frase per impressionare chi si avvicina a questo mondo per la prima volta, è per dire che noi, con i numeri, facciamo delle cose che gli altri non riescono a fare. Quando eravamo arrivati qui, le persone parlavano già di 13.000, 12.000, 10.000, 5.000, e invece siamo imbalzati. Quando abbiamo iniziato a scendere di nuovo, voci di suicidi, noi sapevamo quanto poteva sia durare al massimo un raccordo, un eventuale raccordo, e qui siamo molto in forza, non mi sembra molto un raccordo, mi sembra, mi sembra, non è un'impressione, ok? Siamo a 11 giorni, con domani, se domani rimarremo sopra questo massimo, sopra questo minimo, voglio dire, se domani rimarremo sopra il minimo a 18.549, avremo due settimanali, come durata, 12 giorni, che fanno partire insieme a che cosa? Insieme a uno swing, già violato, fanno partire un mensile, se però il mensile finisce qui sotto, si vincola completamente a ribasso, avete compreso un pochino di più la gravità della situazione in cui si trova il bitcoin? Se non si vola, se non ci si vincola qui sopra, soprattutto dopo la data che vi ho dato di fine settembre, iniziamo a avere problemi, e i problemi più grossi invece però arrivano, se vi venisse violato questo minimo, a 18.549, grossi. Ma attenzione, quelli che le persone normali chiamano problemi, noi le chiamiamo, ormai lo sapete, opportunità. Esattamente come quando avvisavo gli odler che si sarebbe andati giù dal 16-11, nei commenti alcuni mi criticavano, no, tu non puoi dire, però invece sei scesi, tanto, tantissimo. Quando siamo imbalzati verso i 45, eh, vedi, tu avevi detto agli odler di vender, sì, a Natale, ok, e poi dai 45, dicevano 50, invece siamo scesi, ben sotto, siamo arrivati ai target che ho dato. Perché? Perché non sono un fanboy, perché sono un analista quantitativo del mercato che è quanto di più oggettivo ci possa essere, se sa fare bene il suo lavoro, su qualsiasi asset, non parteggiando per Bitcoin, per Nasdaq, per DAX o quello che volete, dato che osservo i grafici e dato che posso sfruttare sia l'opportunità a rialzo che quelle a ribasso, io non faccio il tifo, né per lo short né per il long. Avviso le persone, do informazioni e racconto che cosa può succedere. Poi spesso succede. Spesso perché gli errori si fanno. In questo periodo ne stiamo facendo veramente pochi, davvero molto pochi, anche sui mercati tradizionali se operazioni se gain. Per cui attenzione alla situazione in cui siamo. È estremamente fragile e se da qui fosse partito un nuovo annuale inverso di cui non abbiamo assolutamente ancora tutti gli elementi perché con 34 barre un mensile lancia al massimo un semestrale non è stato violato lo swing per la partenza di un nuovo annuale potremmo ancora essere in continuazione di chiusura quindi magari una risalita. Per adesso però la forza è estremamente bassa e come detto i punti di controllo sono questi due. Uno e due. Questo minimo a 18.549 per quanto riguarda il TP2 e il vincolo a ribasso e questo massimo a 22.794 con il tempo che vi ho dato. Come vedete non do opinioni non vi dico eh il merge di Ethereum avrà un effetto positivo su Bitcoin e quindi adesso compriamo prima del il merge completo correggetemi se sbaglio è avvenuto il 15 qui siamo scesi siamo scesi ancora un po' siamo risaliti che effetto ha avuto il merge perché se andate anche a vedere la parte social dunque community perfetto e andate a vedere le domande dopo il merge di Ethereum ok 700 oltre 700 persone hanno detto il merge non avrà alcun effetto perché è di Ethereum il 35% delle persone si sono praticamente divise tra salire e scendere il 15% non ha idea di che cosa succederà il sentiment quindi è questo forse su questo canale un po' influenzato da quello che racconto e da quello che poi succede perché qui non è successo niente con il merge Ethereum o Ethereum che dir si voglia perché le notizie hanno effetto sì nel brevissimo su qualsiasi asset a volte però ci dicono che i mercati sono impermeabili alle notizie quando non sanno come spiegarsi perché doveva teoricamente con una notizia scendere invece è salito diventano impermeabili ci sono delle notizie che avrebbero dovuto perché il giorno prima ci dicevano che bisognava fare attenzione alla notizia ma il giorno dopo i mercati e le crypto impermeabili non so se avete compreso tutto vale tutto quindi queste informazioni quanto valgono? zero? ok per cui nel breve ci possono essere determinati movimenti l'abbiamo visto qua ok però qui sapevamo già che se qui sta partendo un annuale d'inverso un nuovo annuale d'inverso in ogni caso sarebbero stati violati i perdiabetici tra l'altro ringrazio tutti quelli che notano gli easter egg legati al cinema che metto e dissemino un po' dappertutto sì sono un cultore del cinema adoro il cinema a partire dal mutuo e in bianco e nero fino a le più ampie follie asiatiche della new wave a partire da tachishikitan in avanti adesso però caspita i coreani sono estremamente interessanti anzi adesso in realtà da tanto tempo vengono scoperti grazie a netflix e grazie al fatto che ci sono cos'era già coso game non mi ricordo più mentre invece c'è chi già conosce jono bong e in company si gode già delle delle chicche niente male memoria di un assassino fantastico barking dogs never bite lasciamo perdere eccezionale ma ritorniamo sui nostri binari quindi siete stati avvisati di che cosa può succedere uh giusto come al solito vi dico altre cose importanti stiamo inserendo tantissime persone all'interno del premium quindi c'è una coda lunghissima per favore non continuate a chiedermi dappertutto nei messaggi privati su facebook su youtube dappertutto e io ho mandato la mail il c'è da aspettare e tra l'altro dato che non siamo amazon o altro d'accordo siamo strutturati in un certo modo e ci va del tempo dobbiamo fare tutti i controlli dovete fare quattro passi se non li fate tutti e quattro aspettate per cui si tempo a quella che è la maggior virtù di un trader la pazienza ci sono dei giorni in cui bisogna avere una pazienza micidiale ma non disperate piano piano le risposte arrivano e spesso potrebbero essere già arrivate controllate la vostra casella spam bene direi che altro non c'è da raccontarsi non so se andarmi a vedere un altro OV di Violet Evergarden oppure qualche cosa altro mission che effettivamente mi è venuto voglia di vedere dopo aver visto lo splendido Egno vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata la mia sera sicuramente perché finalmente posso vedere qualche cosa di bello arrivederci e vi ringrazio per il vostro